Abbiamo qui di nuovo il nostro amico Giampiero Squillaci che abbiamo visto la prima giocca a Olonia. Insomma oggi ti chiedo che analisi dà questa partita? Io sono assolutamente soddisfatto del risultato perché penso sia stata assolutamente la più bella vittoria finora sul campo più difficile perché abbiamo trovato una squadra che gioca veramente a calcio che non ha concesso poco però devo al tempo stesso dire un bravo ai miei ragazzi e a tutti quelli che hanno giocato e anche a chi era in panchina. Un ragazzo giovane, un fuori quota ha bisogno di maturare, io gli chiedo sempre, ci mette tanto impegno ma purtroppo manca di quella cattiveria tipica dell'attaccante d'aria e quindi a volte magari si trova sui piedi diverse occasioni ma non riesci a concretizzare. Però alla fine va bene così perché tutto sommato era un peccato non uscire con un risultato positivo visto che vai fuori casa in un campo del genere riesci a costruire diverse occasioni da rete e alla fine rischi anche qualcosina e meno male che oggi l'abbiamo tirata fino alla fine c'è stata comunque grande determinazione e grande voglia da parte dei ragazzi. Mr. Lucchino, un'analisi di questa partita. Abbiamo giocato una partita contro una squadra molto fisica, una squadra che gioca sulle seconde palle che ci ha messo in difficoltà per la fisicità. Abbiamo subito un gol su una rimessa laterale per lo stesso motivo. Però diciamo che oggi un po' la direzione e a me non piace onestamente parlare di direzione arbitraria o di errori arbitrarie perché gli errori li facciamo tutti, li fanno gli arbitri. Però ho notato onestamente un atteggiamento ostile nei nostri confronti. Certamente ci ha nervosito un po', noi dobbiamo essere comunque più bravi e andare oltre oltre insomma a questo tipo di situazioni e rimanere comunque in partita e continuare a giocare. Oggi non era facile, devo dire la verità, perché non era facile mantenere la calma però non siamo riusciti a mantenere la calma e a fare quello che abitualmente facciamo. Grazie a tutti!